Buongiorno ragazzi, buongiorno, terzo giorno qui dal Don Tower, noi riproviamo a fare The Smiler Oh my god, per questa volta siamo senza fila Vi devo dire anche che abbiamo ricevuto un altro jolly perché ci hanno fermato 5 minuti sull'unica stra di legno Tutta apposta, che utilizzeremo nel miglior modo possibile Non so se si entra o non si entra, ne vi dopo Come è stato The Smiler, frullante, 14 in versioni Ma già come inizia? Bellissimo, bellissimo E infatti mi piace È stato veramente una pazzoideità, pussante e mondiale Esattamente, quelli sono i miei occhi in questo momento Bellissimo Oh no, speriamo che ce la passiamo a giocare Buongiorno 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 Qui qui si va a fare Siamo nella cabina portiamo La cabina portiamo dalla Dark Valley julio Abbiamo aspettato fino a mezzogiorno Non si era capito com'è ma c'era scritto tanto grande ma non ce ne eravamo conto non mi piace, non mi piace ho avuto questo ritmo in questo momento siamo attraversando i giardini il punto più alto adesso vi raffiniscono questi apri facciamo vedere cosa c'è qui sotto c'è la barbata cinese con lo stagio dove eravamo ieri? perché vogliamo raffinare perché vogliamo raffinare una volta sì, raffinavamo perché non c'eravamo mai non c'eravamo di raffinare il nostro giolly che abbiamo ricevuto perché siamo stati fermi un pochino, cinque minuti sulla Wicked Man bellissima questa cosa ok, grazie qui l'anno direttore guardare ades Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ci troviamo stasera nel Roller Coaster Restaurant. Look at that. Ci siamo già stati all'Europa Park. Qua il cibo arriva sulle rotaie. Quindi tu arrivi a Pengurella che fa giù 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 e arriva. E noi ordiniamo con il tabletto. Il tabletto questa volta. Abbiamo ordinato maccheroni cheese e due coccettino. Qua poi ci sta. E poi coccette. E poi coccette. E poi coccette. I tovaglioni. I bicchieri. So lovely. I love this place. Ok. Vi faremo vedere quando arriva la pentolaccia. Adesso non arriva neanche una pentola. Niente. Vedremo. Guardate la pentolaccia. Scende, 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 scende e arriva a quel tavolo. È arrivata la prima carnavella. Garlic Bread. Garlic Bread. Ok, buona felice. Arriva la cacabella nostra. Non è il nostro. Perché che ne sai? Numero 5, l'acqua. Vabbè. Ciao. Numero 5. Non è no? È arrivata la cacabella. Rosario ci mette un'ora per togliere le lati. Toglie la cacabella. Vede la cacabella. Stanno pure le mani. Guardate com'è bellezza. La mani. Sì. Ok, apriamo la cacabella. Macchiaroni un cibo nel carne e tre. Buon appetito. Vediamo, arriva una cacabella. No, è in quel tavolo lì. Volevo far vedere la cacabella che fa il giro della morte. Ma niente. Sono uscite 2500 cacabelle. Adesso che le voglio riprendere, non scende niente. Incredibile. Ecco che scende una cacabella. Eh? Che hai detto? Cioè, l'evento vengono lanciate dalla cucina, arrivano i seminari, arrivano direttamente per lei. Chiudiamo, come di consueto ormai, le nostre puntate, così. Anche per oggi abbiamo dato, ma non abbiamo ancora finito. Un poco di pazienza. Domani dobbiamo andare a comprare i gadget. Certo. Certo. E fare tanti bis. Signori, buona serata. Ciao.